Circolavano in Italia senza aver pagato i diritti di confine. Cinque auto di lusso, del valore complessivo di oltre 800.000 euro, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Gallarate perché ritenute di contrabbando. Si tratta di due Porsche, una Mercedes, una Lamborghini, una McLaren 570S, tutte con targa svizzera ma senza aver rispettato la trafila prevista. Complessivamente, secondo le fiamme gialle, l'evasione ammonta 250.000 euro. I responsabili sono stati deferiti alla procura di Busto per il reato di contrabbando aggravato e le supercar sono state sequestrate.